Di nuovo collegati dunque con il Marcello Torre, il sopralluogo ha dato un esito positivo, dunque stanno facendo le loro squadre in campo, le formazioni della Paganese e della Costa Orientale Sarda per questo nuovo appuntamento, il tredicesimo del girone G di Serie D in questo piovosissimo sabato 26 novembre 2022, quindi squadre in campo tra qualche santo, è un campano, partiti intanto in questo istante, De Luca che è un 2003 tra i pali, difesa 3 con Vesi, Moi, stazza ma attenzione a numero 11 della Costa Orientale Sarda che sprega incredibilmente questa palla goal al secondo minuto. All'esterno il traversone di sinistro mette fuori la difesa con Vesi, poi il gran tiro dalla distanza di Verna all'ottavo sino a centrocampo per mettere in movimento sull'auto di sinistra D'Agostino, lascia Pozzebon per poi il tiro rosaterra, è deviato questa volta da De Luca, anzi D'Agostino, si allunga le sue sull'auto di sinistra Brognano che riceve questo pallone, ora si inserisce De Felice e Pozzebon, De Felice, colpo di testa, il tiro, palo, rete, rete, Paganese in vantaggio, con il colpo di testa di De Felice. Al diciassettesimo minuto di gioco la Paganese la sblocca con il colpo di testa di De Felice, sesto goal per l'Azzurro Stellato che diventa capocannoniere in quel... Azzurro, Cogotti, Piredda, Ladu, attenzione al mancino di Ladu che cerca assistenza al limite dell'area, pallone giunce comunque allo stesso Ladu, Pinestro deve uscire in qualche modo, rimedia, attenzione, un'indecisione dell'ardo, tiro bordata direttamente all'incrocio dove Pinestro si allunga, dunque ristabilita la parità, un missile d'angolo d'Agostino sul pallone, pallone a rientrare, la gira in qualche modo. Il difetto è una manovra di gioco, cerca di farlo, Pinna, questo pallone in aria, attraverso un accendolo pericoloso, attenzione di Gran Carriere, tiro salvato al... 26 minuti di gioco, pronto d'Agostino, pallone sul primo palo, alzato sulla linea, traversa quasi battuta, pallone d'Agostino, la rimette al centro, pallone sbianacciato, il tiro, la rete, la rete, la rete, la rete, la rete della Paganese, sulla respinta di De Luca, sul cross di D'Agostino, Paganese in vantaggio, al 34esimo minuto di gioco, la mette dentro, sulla respinta di De Luca, il tiro cross velenoso di D'Agostino, il signor Rainieri di Como, la Paganese, conquista la seconda vittoria consecutiva, non era mai successo.